Sono contentissimo soprattutto per la vittoria oggi che è importantissima, poi anche dal punto di vista personale, ho lavorato tantissimo per questi infortuni che ho avuto, ho lavorato tantissimo per tornare in campo, quindi davvero una cosa bellissima, sono molto contento. 25 minuti cosa ti hanno dato? Come ti senti? Come hai sentito il campo? Ho sentito comunque un stadio bellissimo, una gente che soffre con la squadra, che gioisce con la squadra, tutta la squadra comunque va verso l'unico obiettivo. Non sei entrato forse nel momento migliore, magari a te servirebbe fare gioco, qui invece c'era molto da soffrire. Sì, ma c'è un giocatore che deve fare quello che lo chiede la squadra, comunque anche l'allenatore. Questo non era il momento per fare il gioco, però comunque poi anche con un giocatore in meno dovevamo adattarci e mi sa che abbiamo fatto bene. Adesso mancheranno due giocatori importanti a Napoli, ovviamente ti candidi anche tu. Sì, ma io spero che anche Diego si riprenda, perché comunque è importantissimo per noi, però poi se il mister mi dà le opportunità io faccio il massimo per la squadra.